Good morning Juventus. 1 di 50. Direite questo è impazzito. No, oggi è il giorno 1 di 50 senza Juventus. Ovviamente nei good morning farò una specie di countdown che diventerà probabilmente ossessivo, però almeno così mano a mano più ci avviciniamo al 50 più sappiamo che il campionato tornerà e sarà il 3 di gennaio, perché poi il 4 si gioca, quindi il 3 di gennaio dirò appunto giorno 50 nel 50. Bene, avete visto il titolo? Restituiteceli tutti sani. Io volevo fare una battuta nel titolo e mettere, restituiteceli tutti sani, meno 1. Lascio a voi indovinare chi è il meno 1. Non ve lo dico, proprio sono curioso, vi voglio coinvolgere perché adesso come mai è ancora più importante il vostro coinvolgimento, perché quando c'è la Juve è automatico, è matematico, perché tutti avete voglia giustamente di dire la vostra, non sono d'accordo sulle pagelle, Max, secondo me hai fatto un'analisi troppo severa, forse è stato troppo buono, insomma una serie di cose che giustamente voi avete diritto di dire e di pensare, ma quando si tratta invece di coinvolgere una platea in momenti come questi che io definisco morti, purtroppo perché l'Italia non c'è, quindi non ce ne può fregare di meno dei mondiali, come ho detto ieri mattina, e non gioca la Juventus, voglio vedere se indovinate chi è il meno 1, che se anche si dovesse fare male, a me sinceramente degli 11 che sono ai mondiali non mi interessa. Allora sapete benissimo che c'è una formazione vera e propria degli 11 che sono malattie mondiali, abbiamo in Porta Szczesny della Polonia, poi abbiamo i tre centrali del Brasile praticamente, che sono Bremer, Sandro e Danilo, poi abbiamo un centrocampo ricco fatto da Paredes, Di Maria, Kostic e Ravio e McKennie, e poi abbiamo davanti Milik e Vlaovic, questi 11 giocatori, ma qui una formazione da 11, è un 3-5-2, l'ho pubblicato ieri anche Cartaceo sul canale, sulla community, sono gli unici giocatori che sono andati ai mondiali, e più o meno, e anzi più o meno, e ne restano 12 a Torino, tra cui Perin, Rugani, Bonucci, Quadrado, De Sciglio, Fagioli, Miretti, Sole e Hilling e Ken, e Chiesa. Quindi anche qui abbiamo un'altra formazione, che per certi versi è più forte in attacco a quella che è rimasta a casa, perché con Chiesa e questo attuale Ken non è male, ma il centrocampo è forte, perché ci sono Fagioli, Miretti, Sole e Hilling, mentre in quell'altro c'è quella pippa di McKennie e Paredes, che secondo me dovrà dimostrare di essere uno da Juventus, perché lo vedremo probabilmente, speriamo, a gennaio quando torna, se appunto ce li ho restituiti tutti i sani, perché purtroppo una Kermes come il Mondiale, che viene subito dopo un campionato che non è interrotto, perché pensate solo a questo, il giocatore che fa un Mondiale in estate, sa che finito il Mondiale ha 30 giorni di ferie automatiche, dall'ultima partita che fa, partono 30 giorni, è un diritto sindacale, vero e proprio. In questo caso invece, mentre sentite in sottofondo il mio cane che cigola, purtroppo me ne devo fare una ragione, perché purtroppo fa così, quando Brontola lui fa così, non ha nulla, state tranquilli, è sano, ma purtroppo fa così. E quindi stavo dicendo appunto che quando un giocatore tornerà dai Mondiali, dopo aver fatto 15 partite di campionato, più le coppe, e aver fatto un Mondiale, tornerà e avrà pochissimo tempo per ricaricare le pile, perché già il 4 di gennaio, alcuni chiaramente, probabilmente che sono stati, se saranno andati in finale, non giocheranno, avrà pochissimo tempo per riprendersi. Quindi al pensiero che non avrà ferie, immagino io come sarà appunto la resa di questi giocatori. Quindi sarà un Mondiale che condizionerà tantissimo le squadre. Ovvio che il Napoli che è primo, che ne ha due, e la Juventus che è terza, che ne ha undici, c'è una bella differenza. E oltretutto i due che ha il Napoli sono giocatori che probabilmente verranno eliminati subito, perché Osimè gioca nel Senegale, quell'altro, mi ricordo chi cacchio è, comunque so che non giocano in squadre di primo livello. Noi invece abbiamo Argentina, Brasile, che secondo me, e Francia, che secondo me. Quindi staremo a vedere. Speriamo che ce li restituiscano tutti sani, perché da gennaio inizia un nuovo campionato, col vantaggio che siamo davanti a 17 squadre, perché siamo terzi e non siamo più ottavi. Good morning, Juventus!